benvenuti buon pomeriggio a tutti benvenuti in questo incontro in rete abbiamo titolato questo ciclo un tuffo nel mistero perché il fascino del mistero e dell'incognito uniti al rigore scientifico è quello che accomuna le materie che tratteremo fisica delle particelle archeologia scienze dell'ambiente e astronomia stesso fascino del mistero dell'incognito avvolge la calabria con i suoi tanti luoghi sconosciuti e più la sua storia le varie città che sono succedute e le tracce ancora ben visibili di chi ha accolto greci romani normanni e via dicendo inclusi longobardi ed albanesi dedichiamo con affetto alla calabria questi incontri che saranno tenuti da eminenti ricercatori calabresi di nascita o di adozione questi incontri partono dall'infinitamente piccolo gli elusivi neutrini per concludersi con l'infinitamente grande perdersi tra le stelle passando per la calabria antica il suo davizio fisica ambiente passiamo al primo relatore della serie la dottoressa lucia votano fisica dirigente di ricerche merita presso i laboratori nazionali di flascati dell'istituto fisica nucleare e già direttrice del laboratorio del gran sasso il più grande laboratorio sotterraneo del mondo dedicato alla fisica aristoparticellare si occupa di fisica dei neutrini e partecipa all'esperimento giuno in corso di realizzazione nella cina meridionale ha recentemente pubblicato la via seta la fisica da antico fermi alla cina di di renzo editore e in precedenza il fantasma dell'universo che cos'è il neutrino caro il ceditore la dottoressa votano ci illuminerà sugli allusivi neutrini alla fine della presentazione nel tempo che resta risponderemo le vostre domande lucia a te la parola grazie mille italiano grazie ai laboratori di frascati all'università della calabria di avermi dato questa opportunità di iniziare proprio questa serie di incontri dedicati al mistero e alla calabria in particolare oggi ci occuperemo proprio come tu hai detto degli elusivi neutrini allora cosa sono i neutrini i neutrini sono delle particelle minuscole infinitamente piccole e leggere che neanche con il più potente microscopio elettronico riusciamo a vedere e che però ricoprono un ruolo veramente predominante nel nostro universo nella nostra vita basta pensare che i neutrini insieme alla luce sono le particelle più numerose nel nell'universo sono passati quest'anno esattamente 90 anni da quando il grande fisico pauli ne ipotizzò l'esistenza per far sì che nel decadimento di alcuni nuclei si mantenesse il bilancio energetico cioè si conservasse nell'energia ma si sono dovuti aspettare alcuni decenni fino al 1956 perché i neutrini fossero poi effettivamente rivelati e scoperti la parola neutrino diciamola così e sono stati battezzati da un grande altro fisico italiano in questo caso nostro premio nobel ricco fermi e siccome però anche altri altri fisici Ponte Corvo e Ettore Maiorana hanno dato molti contributi alla sua conoscenza oltre al fatto che la parola neutrino sostanzialmente indica o che indica delle appunto queste particelle non viene rimane inalterata in tutte le lingue del mondo quindi possiamo dire in un certo senso che i neutrini parlano italiano ora queste particelle hanno delle caratteristiche veramente singolari qualcuno le ha definite la cosa più vicina al niente che esiste però amano confondere e hanno confuso per anni i poveri fisici che le studiavano perché hanno delle caratteristiche che adesso poi diciamo nel seguito illustrerò veramente peculiari per cui quello che è successo che dopo la loro scoperta quindi a oltre 60 anni hanno praticamente incuriosito generazioni di fisici in tutto il mondo ora questa curiosità di conoscere in questo caso i neutrini ma in generale la curiosità di conoscere è quella che io ho voluto qui rappresentare con questa xilografia che fa parte di un libro sulla meteorologia francese dell'ottocento e la didascalia di questa immagine recita che Monaco sostiene di avere trovato il punto il cui la terra e il cielo si toccano ora per me diciamo questa qui è proprio il simbolo questa immagine è proprio il simbolo della curiosità dell'uomo di questa sua voglia inestinguibile di conoscere di andare al di là del cortiletto di casa delle colonne di ercole e come si vede in questa immagine di andare anche al di là della terra dell'atmosfera interterrestre per esplorare l'universo e in effetti l'uomo fino a quando ha acquistato coscienza di sé si è fatto delle domande su quello che sul mondo che ci circonda di che cosa è fatto il mondo cioè tutti gli oggetti che ci circondano di cosa in sostanza poi sono fatti possono tutti gli oggetti essere ricondotti per esempio ad alcuni mattoni fondamentali cioè qual è l'essenza di tutto della materia come dicevano i greci qual è l'archè delle cose e così immagino che anche gli uomini primitivi seduti intorno al fuoco alzavano gli occhi al cielo e si chiedevano ma cosa c'è questa volta che che ci sta sulla testa e oggi diremmo cosa c'è nell'universo ha avuto un'origine quando come e oppure è immutabile è stato sempre così e non si evolve nel tempo e invece se si evolve qual è il suo destino futuro ora vedete queste domande riguardano sia il quello che chiamiamo il microcosmo cioè queste particelle di dimensioni subatomiche che certamente non vediamo né a doppio nudo né come dicevo con i microscopi elettronici e il macrocosmo invece rappresentato dall'universo ora dimensioni decine di ordini di grandezza separano un mondo dall'altro per esempio cominciamo dalle dimensioni dell'uomo l'uomo stiamo parlando del metro ordine di grandezza del metro andando verso le dimensioni più piccole troviamo troviamo gli insetti a livello del centimetro poi virus l'elica del dna tutte cose che ancora forse che riusciamo a vedere per esempio appunto con i microscopi poi andiamo verso l'atomo l'atomo sono 10 alla meno 10 centimetri cioè un decimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro le particelle elementari o no insomma le altre particelle ancora più piccole via via fino vedete dimensioni di 10 alla meno 25 centimetri dalla parte invece delle macro dimensioni vedete rappresentate le montagne la terra il sole il sole come vedete sono 10 alla 10 centimetri cioè decine di miliardi di centimetri poi il sistema solare insomma adesso vedete che effettivamente decine e decine di grandezza separano i due mondi allora la domanda che uno si potrebbe porre ma esistono dei punti di contatto tra la fisica e i fisici che studiano questo macrocosmo e il microcosmo va bene io penso che la risposta sia affermativa ed ecco perché diciamo questo il macrocosmo e il microcosmo spesso vengono rappresentati attraverso questo uroboro che è questo serpente mitologico che si mangia la coda perché perché diciamo quello che noi sappiamo è che le leggi fondamentali della fisica regolano l'essere nella sua interezza sia in senso spaziale che temporale che cosa vuol dire questo le leggi che regolano il mondo e l'universo valgono sulla terra e valgono nella nell'universo valgono oggi e valevano all'inizio del dell'universo stesso e questa è proprio la grande lezione che ci arriva da Galileo Galilei da diciamo in generale da quella che chiamiamo il periodo della rivoluzione scientifica del seicento e l'aspirazione dei fisici è stata sempre quella di trovare un nesso un bandolo tra la miriadi di fenomeni che osserviamo sulla terra o o in cielo in qualche modo di uniformarli di poterli esprimere attraverso poche semplici leggi fondamentali e queste leggi fondamentali oggi sappiamo che sono quattro la gravità che è quella che ci tiene con i piedi per terra poi abbiamo le leggi dell'elettromagnetismo la forza debole che è che fa brillare il sole e la forza forte che tiene insieme i nuclei e effettivamente questa lezione ci viene da Galilei soprattutto da Galilei perché perché è stato quello che diciamo e poi da newton con le leggi della gravitazione universale quindi occupiamoci un attimo di quale risposte nel tempo sono state date a queste domande fondamentali vediamo dall'universo beh all'inizio gli uomini hanno risposto con la mitologia anche il racconto che sta nella bibbia la gene si parla di una creazione dell'universo in sette giorni e cosa dicevano i filosofi o scienziati allora la differenza non non c'era differenza tra filosofi e scienziati bene la visione aristotelica dell'universo come sappiamo è un universo geocentrico che vedeva la terra e l'uomo al centro e i corpi celesti che li ruotavano attorno anche se c'era qualcuno più o meno contemporaneo tipo aristarco di samo che già invece suggeriva un sistema eliocentrico e anche la grande cultura lascia grande scienza alessandrina tolomeo in qualche maniera conferma questo schema geocentrico e descrive poi studia il moto dei pianeti perché alessandria d'egitto diciamo c'è stato un grande sviluppo della della scienza bene la prima grande svolta nella conoscenza dell'universo avviene come dicevo proprio con la rivoluzione scientifica del seicento che arriva che parte da copernico e arriva intorno a newtono pubblica queste leggi di gravitazione universale che ci dicono che è la stessa forza quella che fa cadere gli oggetti quando li lasciamo che fa sì che la luna cada diciamo sulla terra cioè orbiti intorno alla terra o la terra intorno al sole un'altra grande svolta nella nella comprensione dell'universo avviene nel secolo scorso nei primi decenni del secolo scorso non ho tempo di diciamo citare ho messo solo dei nomi che sono fondamentali per la cosmologia moderna da Einstein Friedman Hubble Lemaitre Levitt eccetera diciamo giusto per darvi un'idea la svolta comincia quando Hubble e i suoi collaboratori cominciano a vedere che le galassie si allontanano dalla terra e tanto più sono lontane tanto maggiore e la velocità con cui si allontanano questo dà un'idea di un universo non statico ma un universo in espansione allora se l'universo è in espansione ci deve essere stato un istante percorrendo all'indietro la storia dell'universo in cui l'universo era racchiuso in un punto in un punto piccolissimo infinitesimo cioè possiamo estrapolare all'indietro immaginare che ci sia stato un tempo zero che adesso chiamiamo il big bang vedete questa è un'immagine che è fatta dal CERN diciamo che dà una vaga vaga idea di che cosa è stata insomma il concetto qual è l'universo ha avuto un'origine e oggi sappiamo che questa origine il tempo t uguale a zero è stato 13,7 miliardi di anni fa. Ora da allora l'universo in questa immagine si è cercato per quanto possibile di ripercorrere le tappe dal big bang fino ad oggi come vedete 13,7 miliardi di anni dopo il big bang e quali sono diciamo cominciamo a dire che dopo 13,7 miliardi di anni l'universo ancora si espande e man mano che si espande si raffredda la domanda ovvia che dobbiamo porci è si è espanso ma a partire da che cosa? Bene l'universo è nato dal vuoto uno stato dell'essere direi ha energia totale zero e più che forse dire l'universo è nato dal vuoto l'universo è nato da una fluttuazione del vuoto perché vedete il vuoto quantistico di cui parlano i fisici è ben diverso dal nulla così come il numero zero è un numero altrettanto reale degli altri degli altri numeri cioè per la meccanica quantistica diciamo anche uno stato di energia totale a zero come era l'universo se io in uno punto specifico dello spazio tempo posso fare una misura posso trovare un valore dell'energia diverso da zero purché diciamo la durata della misura sia tanto più piccola quanto maggiore è il valore dell'energia in altre parole io posso estrarre dal vuoto delle particelle virtuali purché rientrino nel vuoto in un tempo che è tanto più piccolo quanto maggiore è la loro energia quindi questo vuoto quantistico di cui parliamo da cui nato l'universo in realtà pullula di campi quantistici di forza e di particelle virtuali ora quando si parla di espansione non dovete immaginare che l'universo si sia espanso in qualcos'altro in uno spazio esterno no è lo spazio tempo stesso che si è dilatato e qual è diciamo quali sono vediamo di percorrere molto brevemente queste tappe allora questa fase del diciamo del vuoto quantistico in cui tutte le forze fondamentali sono sono unificate si chiama l'era di planca intorno a 10 alla meno 36 secondi numero piccolissimo quello che succede che una fluttuazione per ragioni che non conosciamo improvvisamente comincia ad espandersi in maniera parossistica esponenziale portando l'universo da dimensioni subatomiche infinitesime a dimensioni diciamo macroscopiche ordine si dilata lo spazio scusate di decine di ordini di grandezza questo è il periodo che chiamiamo dell'inflazione cosmica lo spazio tempo si espande e le parti dello spazio tempo si allontanano fra di loro anche con una velocità che è super luminale superiore alla velocità della luce questo ripeto il periodo dell'inflazione dura pochissimo da circa 10 alla meno 36 a meno 32 secondi quando finisce questo periodo l'universo è una specie di assunto dimensioni macroscopiche ma è un universo una specie di brodo di zuppa caldissima 10 alla 27 gradi kelion quali sono brevemente le altre tappe fondamentali di questo di questa formazione dell'universo così come noi lo osserviamo oggi una tappa fondamentale intorno a 10 alla meno 11 secondi in questa zuppa primordiale tutte le particelle avevano massa uguale a zero si muovevano la velocità della luce improvvisamente man mano che l'universo si espande e si raffredda si materializza una specie un nuovo campo di forza che è il campo di x che è quello che comincia a dare massa ai mattoni fondamentali della materia ai quark o ai mediatori delle forze masse diverse a seconda di della loro interazione con questo nuovo campo di forze che si materializza passano pochi microsecondi e i quark si aggregano a formare i primi protoni e neutroni dopo tre minuti sostanzialmente è avvenuto tutto l'universo è sostanzialmente lo stesso anche se non come dimensioni di quello che osserviamo oggi a tre minuti si cominciano a formare i primi nuclei leggeri idrogeno del terio elio litio e la formazione diciamo il numero di di nuclei primordiali che troviamo nell'universo è una prova di questo proprio della veridicità di questo modello del big bank un'altra tappa fondamentale è quella che avviene intorno a 380 mila anni dopo il big bank perché vedete diciamo l'universo dopo i primi minuti continua come ho detto a espandersi e a raffreddarsi però un universo opaco oscuro perché la luce i fotoni la radiazione sono continuamente intrappolati dalle interazioni con i quark e con le altre particelle quindi l'universo è sostanzialmente opaco quello che succede intorno a 380 mila anni che la temperatura si abbassa abbastanza perché gli elettroni cominciano ad aggregarsi intorno ai primi nuclei e nuclei primordiali si formano i primi atomi allora la radiazione si separa la luce si separa dalla materia e improvvisamente l'universo diventa luminosa se volete e la luce fu raccontata nella nella genesi passeranno poi centinaia di milioni di anni prima che la la materia si addensi intorno a dei semi cosnici che sono il riflesso della dell'inflazione avvenuta nei primissimi istanti e la materia si addensi abbastanza da innescare le prime reazioni di fusione nucleare e si accendono le prime stelle stelle galassie insomma fino ad arrivare all'universo come oggi lo vediamo bene questa radiazione la prima radiazione la prima luce dell'universo se ci pensate è un miracolo è stata misurata quasi per caso da pensi a servizio nella 60 negli anni 60 se per ricordo l'anno cioè se ci pensate come questa misura di questa prima luce che all'epoca era una luce visibile o tendente all'altro violetto ma a causa della dilatazione dell'universo adesso è nel range delle microonde ed è come veramente avere trovato in un cassetto una fotografia dell'universo appena a 380 mila anni dal bibelte quindi sfidiamo qualunque archeologo a trovare un documento storico più antico di questo per quello che riguarda non solo l'umanità sulla terra ma in realtà tutto l'universo ora questa prima luce che è stata misurata importantissima non solo perché ci dà della diciamo un ulteriore prova della bontà del modello del big bang ma riesce adesso non posso soffermarmi molto ma insomma riesce dal dallo studio di questa radiazione traiamo una serie di informazioni numerosissime ed eccezionali che non solo ci confermano la teoria del big bang ma ci hanno fatto anche dato diciamo delle conferme anche di altri altri fenomeni di cui oggi non parlo quindi voi vedete insomma vorrei farvi diciamo meditare su questo noi studiamo l'universo come lo almeno fino adesso lo studiavamo semplicemente solo attraverso la luce che le stelle le galassie ci mandano bene questa radiazione cosmica di fondo praticamente è la cosa più lontana e più antica che riusciamo a vedere ma allora se noi oltre a diciamo non riusciamo ad andare a vedere l'universo prima dei 380 mila anni ma come come io ho fatto a dirvi a raccontarvi quello che è successo l'inflazione la formazione dei primi protoni o dei primi nuclei perché cioè come faccio a studiare l'universo bene la fantasia e l'abilità dei fisici è tale che diciamo con strumenti che sono gli acceleratori di particelle in cui accelerando fasci di particelle tipo protoni oppure tipo elettroni e facendoli scontrare in punti di interazione sostanzialmente si ricreano in piccolo le condizioni di temperatura di densità che aveva l'universo nei primissimi istanti di vita è così che abbiamo scoperto il bosone di x che era apparso nell'universo 10 alla meno dopo appena 10 alla meno 11 secondi tanto per fare un esempio quindi attraverso gli acceleratori di particelle noi riusciamo a rispondere all'altra domanda sul microcosmo di che cosa è fatto il mondo bene quello che con un processo diciamo riduzionista abbiamo visto prima gli atomi poi abbiamo visto che gli atomi non sono indivisibili ma sono fatti di un nucleo di protoni e neutroni e di elettroni che diciamo gli ruotano intorno poi abbiamo visto che anche i protoni e neutroni non sono elementari ma sono fatti di quark e sostanzialmente la materia stabile è fatta di dei quark di questi mattoni fondamentali che sono i quark up e down e l'elettroni ora in realtà in questi acceleratori di particelle che si sono sviluppate di energia sempre maggiore soprattutto a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso quello che è successo in realtà è che continuavano ad essere scoperte a venire fuori particelle sempre nuove sempre diverse è nato uno zoo di particelle allora è nata l'esigenza in qualche modo di catalogare di mettere appunto un ordine in questo zoo di numerosissime sempre particelle nuove che si scoprivano un po come è successo dal punto di vista se volete della chimica con la tabella di Mandela in cui tutti gli elementi chimici che conosciamo anche quelli che non conoscevamo sono stati ordinati secondo che cosa poi il numero dei protoni e dei neutroni del dell'uglo e quindi anche del numero degli elettroni quindi questa nuova tabella di Mendelef questo ordine trovato è quello che ecco qui vedete in una diciamo filmetto del punto sempre del serna i quark che all'interno del protone si scambiano altre particelle che sono i gluoni e fino ad arrivare alla somma di quello che conosciamo sul microcosmo che è il modello standard delle particelle elementari quindi tutto ciò che viene che conosciamo stabile o non stabile che venga prodotto per esempio agli acceleratori o nei raggi cosmici può essere ricondotto da alcuni mattoni fondamentali così non esistono solo il quark up and down ma esistono altri quattro quark quindi quark in totale sono sei così non esiste solo l'elettrone esiste diciamo un elettrone ancora più pesante che si chiama il muone un ancora più pesante che si chiama il tau e poi ho cerchiato in rosso esistono queste particelle che sono i neutrini quindi a domanda cosa sono i neutrini possiamo adesso rispondere i neutrini sono delle particelle elementari sul lato destro di questo schema vedete quelli che sono i mediatori delle forze perché nella visione moderna diciamo di un campo quantistico la forza si esercita attraverso lo scambio di mediatori a questo schema diciamo questa nuova tabella di mendele e mancava qualcosa perché il non si riusciva il modello standard di per sé che diciamo riesce a spiegare e uniformare tre delle quattro forze fondamentali escludendo la gravità non riusciva però a spiegare se non tramite un meccanismo doc com'è che le particelle avessero una massa questo è il meccanismo che ha trovato conferma sperimentale nel 2012 proprio con la scoperta del bosone di di x ora in questo processo di conoscitivo della del microcosmo delle particelle che siano elementari o non diciamo c'è una tappa importantissima che del 1928 è la famosa equazione di dirac la questa equazione che descrive il basata sia sulla meccanica quantistica e sulla relatività di stein che descrive il moto dell'elettrone libero così come di altre particelle che appunto vengono dette particelle di dirac in realtà conteneva al suo interno una simmetria per cui questa equazione ammetteva soluzione non solo per l'elettrone ma anche per un'altra particella che aveva le stesse caratteristiche dell'elettrone stessa massa stesso spin diciamo ma aveva una carica elettrica positiva bene doveva esistere ed era possibile che esistessero particelle che avevano le stesse caratteristiche della della di quelle che costruiscono la materia ma con numeri quantici con cariche opposte questa è l'antimateria cioè vedete la forza e la bellezza della simmetria in fisica che riesce a prevedere anche ciò che non era visto non era diciamo non era conosciuto bene pochi anni dopo anderson nei raggi cosmici trova scopre proprio il positrone 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 l'anti particella della dell'elettrone e l'equazione di dirac ci dice che il mondo diciamo delle particelle simmetrico per ogni particella che costituisce la materia esiste un'altra particella costituente l'antimateria ora non dovete pensare a niente di esotico diciamo in un certo senso nell'antimateria perché è vero che noi siamo fatti di materia le stelle sono fatte di materia però l'antima l'antimateria le antiparticelle sono prodotte costantemente dove nei raggi cosmici questa pioggia di particelle che a contatto con l'atmosfera si moltiplica in sciami di miliardi di altre particelle che chiamiamo raggi cosmici oppure come ho detto ai grandi acceleratori quindi la dimostrazione diciamo della bontà della veridicità di questa elegantissima anche bella ed elegante equazione che di dirac tanto è vero che come avete visto nella 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 slide precedente è stata l'equazione di dirac è stata scritta nella lapide commemorativa sulla sua tomba nell'abbazia di west mister bene allora per quello che sappiamo delle leggi che governano le il microcosmo delle particelle e siccome le sappiamo anche estrapolare all'energia cui aveva l'universo all'inizio è ragionevole pensare che all'istante del big bang la materia fosse formata in uguale quantità in uguale della misura sia da particelle che antiparticelle però adesso noi non vediamo stelle fatte di antimateria o galassie fatte di antimateria non ci sono antistelle ed antigalassie cioè l'universo sembra fatto per quello che sappiamo è ragionevole pensare abbiamo anche delle prove che si è fatto solo di materia allora vedete che questo è un grande mistero diciamo perché è scomparsa l'antimateria iniziale dell'universo ora dovete immagini da sapere che materia antimateria quando interagiscono fra di loro vengono a stretto contatto si annigliano in pura energia allora voi dovete quindi quindi è chiaro che se questa perfetta simmetria dell'universo fosse continuata le particelle iniziali del big bang particelle antiparticelle si sarebbero progressivamente anniglite e avrebbero dato luogo ad un universo di pura energia quindi non solo non esisterebbero le stelle e le galassie ma non esisteremmo neanche noi allora l'ipotesi e sakharov è un figura chiave da questo punto di vista l'ipotesi il fisico sakharov è che sul fedire del pensiamo del periodo inflazionario della storia dell'universo una piccolissima asimmetria in una delle leggi che governa qualcuna delle interazioni delle particelle elementari deve aver fatto sì aver generato un eccesso un sopravvento dei protoni dei neutroni che fisici chiamano barioni sugli antiprotoni e sugli antinatroni gli antibarioni e quella che i fisici chiamano la bariogenesi quindi l'universo che cos'è come lo vediamo adesso è il risultato di questo eccesso di un tipo della materia rispetto all'antimateria mentre tutto il resto si è trasformato in luce in pura energia e che questa asimmetria debba essere stata molto piccola ce lo dice proprio il rapporto tra barioni e fotoni del dell'universo allora voi capite che in qualche modo possiamo dire che siamo figli di una rottura nella perfetta simmetria dell'universo la rottura di questa simmetria ha consentito la nascita della materia nell'universo delle stelle ma anche lì noi stiamo stessi ora diciamo capire naturalmente bisogna capire quale delle interazioni quando e quale delle interazioni ha prodotto questa sopravvento questo eccesso di un tipo di materia rispetto all'altra ora già nel 1967 come dicevo sagra ha avuto diciamo un ruolo importante in questo argomento perché ha dettato tre regole che qualunque teoria di bariogenesi cioè che spieghi che cosa sia successo all'inizio dell'universo e quindi la scomparsa dell'antimateria devono tre condizioni a cui qualunque teoria deve che devono essere soddisfatte una di queste dice che questo questa diciamo questa rottura della simmetria voleva dire anche che era stata violata una simmetria che si chiama che fisici chiamano dcp dove pista per parità cioè vuol dire che un sistema rimane in la simmetria che cosa vuol dire in fisica vuol dire che un sistema rimane invariante quando il sistema di particelle a cui si applica vengono applicate delle trasformazioni la simmetria cp vuol dire che io sto invertendo tutte le coordinate spaziali del del delle particelle ci sto invertendo tutte i numeri quantici compresa la carica la carica diciamo tutte le cariche delle particelle compresa la più comune la carica la carica elettrica l'altra cosa che sappiamo e questo è importante è che qualunque diciamo qualunque teoria di bariogenesi riusciamo a inventarci i nostri fisici teorici riescono a inventare è chiaro che non può trovare posto all'interno del modello standard cioè bisogna estendere il modello standard delle particelle elementari a nuove per inventare diciamo per pensare all'esistenza di altre particelle e di nuova fisica ora quindi che cosa vuol dire questo che la scomparsa dell'antimateria non può essere spiegata all'interno del modello standard ora c'è un altro fenomeno che ci dice che il modello standard ancorché abbia innumerevoli infinite oserei dire conferme e è stato ed è un modello di enorme successo non riesce a spiegarci tutto un altro fenomeno che non riesce a spiegarci il fatto che i neutrini abbiano una massa nel senso che il modello standard prevedeva che questi i neutrini avessero massa zero e invece recenti negli ultimi decenni abbiamo visto che le neutrini hanno una massa ancorché piccolissima ora come vi dicevo questi neutrini hanno delle caratteristiche alquanto singolari è una particella che ha carica non ha carica elettrica quindi è neutra esistono tre tipi di neutrini come abbiamo visto il neutrino elettronico associato all'elettrone il neutrino monico e il neutrino tau non conosciamo le masse esattamente dei neutrini ma abbiamo dei limiti superiori e la massa è talmente piccola che ancora non siamo riusciti a determinarla direttamente sappiamo che esiste ma non l'abbiamo determinata l'altra caratteristica dei neutrini è che interagiscono con la materia solo tramite la forza debole interagire la loro se come diciamo noi sezione adulto è piccolissima per ecco perché si chiamano illusivi perché i neutrini riescono ad attraversare enormi quantità di materia per esempio nell'universo senza essere intercettati senza essere fermati quindi ci portano informazioni diciamo sono dei messaggeri che ci portano informazioni degli angoli più lontani e remoti dell'universo ma questa loro illusività è anche alla base della difficoltà poi di in qualche modo misurarli di farli interagire cioè tutti gli esperimenti che cercano di intercettare di misurare i neutrini sono esperimenti che hanno enormi masse parliamo di tonnellate e tonnellate l'altra caratteristica che come vi dicevo ha confuso tante generazioni di fisici e un'altra importante caratteristica i neutrini che abbiamo visto sono di tre tipi o sapori viaggiando nello spazio e nel tempo possono trasformarsi da un tipo all'altro per esempio i neutrini che partono dal sole sono la maggioranza di quelli che arrivano sulla terra quando arrivano sulla terra una parte dei neutrini elettronici del sole si è trasformato in neutrino monico questo è il fenomeno della oscillazione dei neutrini che può avvenire solo se i neutrini hanno una massa tra loro diverse ecco quindi che con diciamo avendo scoperto il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini sappiamo con certezza che a differenza di quello che diceva il modello standard i neutrini hanno una massa quindi ecco un altro fenomeno la massa dei neutrini che ci dice che dobbiamo andare al di là del modello standard e l'altra caratteristica come vi dicevo è che neutrini e fotoni sono le particelle più diffuse nell'universo di materia conosciuta allora è venuto spontaneo in qualche modo associare questi due fenomeni che ambedue richiedono dei modelli diciamo vi dico anche brevemente da dove vengono i neutrini come vi dicevo la fonte principale il sole ogni centimetro quadrato della nostra pelle attraversato da 60 miliardi di neutrini al secondo provenienti dal sole li troviamo nell'atmosfera come detto nei raggi cosmici la terra la crosta e il mantello terrestre emettono che sono fatti che contengono isotopi di uranio torio e potassio emettono anche i neutrini che sono stati rivelati anche al gran sasso vengono un fiotto violentissimo dei neutrini viene messo quando muore una stella il fenomeno della supernova e poi ci sono fenomeni che diciamo chiamiamo violentissimi nell'universo qui tipicamente sono coinvolti anche dei buchi neri che accelerano particelle comprese i neutrini e poi esiste un fondo cosmico diciamo di neutrini simile alla radiazione a microonde che è stata misurata mentre i neutrini cosmici ancora non li abbiamo misurati che se riuscissimo a misurarli siccome si è manifestato e apparso libero un universo a qualche secondo ci parlerebbero di un universo molto iniziale bene questo molto rapidamente dove troviamo i neutrini bene tornando al problema della scomparsa dell'antimateria come vi dicevo è venuto spontaneo in un certo senso mettere insieme questi due fenomeni la scomparsa dell'antimateria richiede un'estensione del modello standard la massa dei neutrini richiede anch'essa un'estensione del modello standard allora alcuni teorici hanno diciamo elaborato questa teoria che si chiama l'eptogenesi che in realtà riuscirebbe a spiegare se confermata riuscirebbe a spiegare entrambi i fenomeni in questa la dico molto brevemente in questa teoria della leptogenesi si ipotizza l'esistenza di neutrini estremamente pesanti in uno stadio dell'universo molto prossimo all'inflazione cosmica in cui si aveva a disposizione energia sufficiente bene nel decadimento di questi neutrini si sarebbero manifesto diciamo sarebbero state soddisfatte le tre condizioni di sacra compresa la violazione della simmetria cp questo questa asimmetria questa piccola simmetria sarebbe stata successivamente trasferita ai barioni con un altro fenomeno che può avvenire solo alle energie altissime dell'universo primitivo e quindi questo eccesso avrebbe provocato poi la scomparsa dell'antimateria ora la in questa teoria della leptogenesi però si richiede una condizione diciamo è una cosa che viene fuori da come viene formulata questa teoria si richiede che i neutrini non siano particelle di dirac non soddisfino la famosa equazione di dirac come gli elettroni ma come si dice siano particelle di majorana secondo una teoria elaborata dal grande fisico che è scomparso misteriosamente il che equivale a dire che lo stato di particella concide con quello di antiparticella bene quali sono le prove quali prove dobbiamo cercare per vedere se questa teoria della leptogenesi può essere vera bene una delle prove è che se le neutrino sono particelle di majorana invece che di dirac esiste un processo esiste diciamo ipotizzato un processo estremamente raro che si chiama il doppio decadimento beta senza neutrini che può avvenire solo se i neutrini sono particelle di majorana ebbene vi dico solo molto brevemente che il diciamo al laboratorio del gran sasso che come avete sentito il più grande laboratorio sotterraneo dedicato alla fisica astroparticellare ci sono due esperimenti dedicati proprio a cercare di misurare questo evento questo decadimento rarissimo che è il più beta è in particolare uno di questi gerda e al momento il diciamo non è stato ancora misurato però sono tra gli esperimenti più avanzati al mondo e sono gerda e cuore in particolare gerda e al momento il più sensibile degli esperimenti al mondo dedicato alla ricerca di questo fenomeno rarissimo. Quale altro modo abbiamo diciamo a parte vedere il decadimento doppio beta nei laboratori sotterranei per capire se la teoria della leptogenesi è la spiegazione giusta del mistero della scomparsa dell'antimateria? Beh intanto è quello di verificare che diciamo effettivamente non i neutrini diciamo quelli dell'origine dell'universo ma i neutrini leggeri quelli che conosciamo adesso i tre neutrini conosciamo adesso intanto violano questa simmetria che chiamiamo CP. Ebbene questi sono risultati molto recenti di un esperimento che si chiama T2K in Giappone in cui un fascio di neutrini muonici viene diciamo prodotto in un complesso di acceleratori sulla costa orientale del Giappone è inviato ad un enorme gigantesco esperimento di 50.000 tonnellate di acqua che sta diciamo a circa 300 chilometri. Ebbene diciamo la faccio breve risultati recenti dicono con buona statistica ancorché non sufficiente a gridare alla scoperta che il comportamento l'oscillazione dei neutrini muonici e l'oscillazione degli antineutrini muonici non avviene esattamente allo stesso modo quindi c'è una violazione come noi diciamo di CP. Allora diciamo se sembrano indicare in un certo senso che questa dissimmetria questa rottura della simmetria e la conseguente scomparsa dell'antimateria possono essere imputati ai neutrini. Allora concludo dicendo che ho cercato di illustrarvi brevemente alcune caratteristiche dei neutrini come abbiamo visto sono elusivi come fantasmi cioè come fantasmi attraversano la materia senza essere intercettati. L'altra caratteristica veramente intrigante è che come dei camaleonti si trasformano tra un tipo e l'altro. Se la teoria della leptogenesi effettivamente sarà confermata e quindi diciamo l'entità anche della violazione di CP è tale da poter dire che abbiamo risolto il problema della scomparsa dell'antimateria e la colpa e dei neutrini bene dovremo loro attribuire anche dobbiamo dare loro merito di avere permesso la formazione dell'universo così come noi lo conosciamo e della nostra stessa vita. Grazie dell'attenzione e queste sono le copertine dei due libri che Vitaliano aveva avuto la bontà di citare nella mia presentazione. Grazie. Grazie Lucia, sei stata esauriente. Forse un po' lunga. Però penso che la gente abbia apprezzato. Volevo prima di passare le domande ricordare ai nostri uditori che noi faremo una seconda puntata di questo oggetto, di questa serie che si terrà il 17 settembre alle 17 come adesso, la terrà il professor Fabrizio Mollo dell'Università degli Studi di Messina e parlerà della calabria antica tra archeologia, tradizione e identità culturale. Torniamo a noi. Una dei nostri uditori, Anna Maria Russo, chiede l'inflazione potrebbe essere trattata con la teoria del caos? No, la teoria dell'inflazione diciamo no, direi di no. Diciamo il caos c'entra nel senso che il vuoto quantistico in qualche maniera può dare un'idea di caos, però diciamo, ecco questo forse non l'ho detto chiaramente, quella all'epoca di Planck che è diciamo quella in cui sostanzialmente l'universo è un insieme di fluttuazioni del vuoto che scompaiono e scompaiono, bene, noi fisici in questo momento non sono in grado di descriverla. Perché non sono in grado di descriverla? Perché come dicevo, quello è un momento in cui tutte e quattro le forze sono unificate e ora il modello standard che diciamo si basa delle particelle elementari che è riuscito con uno stesso principio di simmetria a unificare tre delle quattro forze fondamentali ma non la gravità. Cioè qual è il problema? In questo momento la matematica e la fisica del macrocosmo che è la relatività generale e quella del microcosmo che è la meccanica quantistica ancora non si parlano. Cioè quello che voglio dire è che l'epoca non sappiamo descrivere con un'equazione matematica diciamo così lo stato dell'universo all'epoca di Planck. Cioè non siamo riusciti ad uniformare tutto sia la meccanica quantistica con la relatività. quindi appunto non possiamo mettere in forma matematica qual era lo stato dell'universo nell'epoca di Planck. Ci stai dicendo che abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Assolutamente. L'altra parte è anche questi indizi che ci vengono dal Giappone sul fatto che la scomparsa della materia possa essere spiegata attraverso questa teoria della leptogenesi è ancora un'indicazione ma non è ancora... se sarà confermata sicuramente ci sarà un altro premio Nobel per la collaborazione giapponese che già ne ha accumulati un certo numero. Infatti posso fare una battuta che spesso faccio di cui nel neutrino parla italiano per i motivi che ho detto però secondo me comincio ad avere gli occhi a mandorla perché non è solo questione dell'esperimento giapponese ma anche degli esperimenti dei progressi della Cina, l'esperimento a cui io lavoro. Cioè la fisica del neutrino sostanzialmente si è molto spostata all'Oriente così come molta della ricerca mondiale. Bene. Senti, una delle domande ricorrenti che generalmente si fa è a che serve questa ricerca così all'avanguardia ma anche così lontana dal mondo reale. Devo dire che a questo ha risposto una nostra uditrice infatti Eliana Minutolo ci conferma che la PET ci ricorda che la PET si fa con l'antimateria. Sì, appunto. È uno degli esempi che spesso facciamo. L'altro esempio che facciamo sempre è quello rispondo dicendo che la ricerca è sul neutrino potrei rispondere in maniera provocatoria dicendo non servono a niente che è una mezza verità nel senso che effettivamente se poi mi chiedete un'applicazione immediata di quello che sappiamo su un neutrino in questo momento non la possiamo dare. Però ricordiamo sempre che quando si cominciarono a studiare già alla fine dell'Ottocento i fenomeni elettrici e magnetici, diciamo anche chi allora studiava questi fenomeni non aveva minimamente idea di quali sarebbero state le applicazioni. Ora pensate ad immaginare un nostro mondo senza onde elettromagnetiche di tutte le frequenze possibili dai telefonini, alle radio e a qualunque cosa senza l'elettricità dentro la nostra casa. Quindi io sono sicura diciamo che quello che conosciamo e quello che ancora rimane da conoscere sul neutrino troverà sicuramente tra 10, 20, 50, 100 anni un'applicazione d'altra parte se ci pensate anche la stessa relatività generale ha trovato la sua piena conferma perché se le prove ce n'erano già esattamente a 100 anni con la scoperta delle onde gravitazionali. Quindi i tempi della ricerca fondamentale sono lunghi ma sono anche quelli che fanno fare i salti più sostanziali nella conoscenza e che riescono poi a sconvolgere, a cambiare di molto anche la vita degli uomini. Bene, c'è ancora un'altra domanda che ci pone Amedeo Gaudio. È una domanda che diciamo è più filosofica che fisica ma è una domanda ricorrente. quando si cerca, non so se per bisogno del soprannaturale, per bisogno di uno spirito eccetera, di collegare la fisica con aspetti diciamo religiosi o filosofici. Per esempio Amedeo Gaudio ci chiede e se la nostra anima fosse fatta di neutrini? Io normalmente raccomando di non confondere la scienza con il bisogno di sovrannaturale perché la scienza ha le sue regole che sono quelle che qualunque quando si dice esistono i neutrini vuol dire che ci sono sufficienti, più che sufficienti, prove sperimentali dell'esistenza del neutrino. L'esistenza dell'anima è qualcosa che attiene a una sfera diversa che non segue le regole della scienza e quindi in qualche modo non solo non so rispondere, cioè non mi permetto di rispondere a questa domanda perché io posso parlare di ciò che conosco, cioè dei fatti scientifici. Del sovrannaturale la scienza non se ne occupa e credo che le due sfere debbano rimanere rigorosamente separate. L'altra domanda, io ho parlato tanto dell'universo, della nascita dell'universo, spesso la gente dice sì ma cosa c'era prima del Big Bang? Bene, io dico intanto non lo so, ma poi soprattutto la domanda è malposta perché lo spazio e il tempo così come noi li conosciamo nascono proprio con il Big Bang quindi in qualche maniera non ha senso neanche chiedersi che cosa esistesse prima del Big Bang e comunque in questo momento non lo sappiamo. Quindi confermiamo che per gli aspetti spirituali occorre rivolgersi a altre… Non alla scienza, è sbagliatissimo cercare di avere risposte a questioni religiose che riguardano il bisogno di sovrannaturale dell'uomo rivolgersi per avere conferme dalla scienza. La scienza ha le sue regole, regole che sono cominciate con la scienza antica e sono state codificate appunto dai vari Galileo, Newton, eccetera, che sono regole ben precise. Quindi se purtroppo, devo dire, in Italia si capisce la… Quando io dico in Italia siamo poveri di cultura scientifica, non voglio dire che la gente non conosce le ultime scoperte sui neutrini, o tanto per dirne una, non è quello il punto. Il punto è che purtroppo non si capisce cosa voglia dire fare scienza. Per cui, questo ne abbiamo, se volete, avuto la prova in questa vicenda del Covid, in cui ci si meravigliava, e tutti i giornalisti, tutti durante i talk show, ma com'è possibile che questi scienziati siano divisi, abbiano idee diverse? Ma, diciamo, mi sarei meravigliata se non fosse stata così. Cioè, il virus del Covid non è un virus conosciuto, è comparso quando si è sviluppata prima in Cina e poi in altre parti. Quindi, diciamo, il Covid è un esperimento che si sta facendo in questo momento, lo studio del Covid. Allora, non si può chiedere a degli scienziati di dare delle verità, tra virgolette, scientifiche, finché l'esperimento non è concluso. delle conclusioni. Quindi, non è possibile che ci siano, diciamo, opinioni diverse. Quindi, però, come si vede, come si sente, come si continua a sentire, ovunque, il fatto di non comprendere bene cosa voglia dire fare scienza, poi porta anche a queste conseguenze. Un'ultima domanda, poi ti farò io una domanda personale. Allora, Daniela Giacomantonio ci chiede quali altre teorie ci sono, oltre a quella dell'epicogenesi, per spiegare la perdita di asimmetria? Ma, diciamo, la violazione della simmetria CP è stata prima scoperta non nel settore elettronico, cioè non nelle oscillazioni dei neutrini, ma nel settore dei quark, diciamo. Però, l'entità di questa violazione di CP, che poteva essere in qualche maniera una spiegazione della scomparsa dell'antimateria, in un momento i dati sperimentali ci dicono che la violazione è troppo piccola perché possa avere prodotto poi l'evoluzione dell'universo così come lo conosciamo. In questo momento direi che la leptogenesi è la teoria più accreditata, in un certo senso. L'ultima domanda, te la faccio io, ed è una domanda personale, sei libera di non rispondere. Cosa ha tinto una ragazza calabrese come te in anni in cui le donne nella fisica erano meno delle mosche bianche a intraprendere questa attività e questa terriera? Sì, diciamo, rispondo anche perché l'ho anche scritto, l'ho anche scritto nel libro, quindi posso rispondere tranquillamente. Dunque, intanto io vengo dall'Iceo Classico, vorrei sottolineare questo. All'Iceo Classico a me piaceva la filosofia e come ho detto, come ho cercato in fondo di spiegare all'inizio di questa conversazione, scienza e filosofia hanno molti punti in comune, accolch'è, diciamo, metodologie diverse. Ora, quindi, mentre io facevo il liceo, anche se mi piaceva molto la filosofia, sentivo che non mi sarei mai iscritta né a legge né a lettere, che sono, diciamo, le due facoltà che all'epoca erano le più gettonate tra chi usciva dai licei, soprattutto classici. Poi, diciamo, la decisione di iscriversi a fisica è nata perché, per un opposto in qualche maniera, nel senso che ho avuto un insegnante al liceo classico, già se ne fa poco di matematica e fisica, ma ho avuto un insegnante che veramente non ci ha insegnato nulla in tutti e cinque anni, tanto che alle soglie della maturità mi sono resa conto che se fossi andata, nonostante fossi mediamente brava, diciamo, però se fossi andata alla maturità senza prepararmi un po' meglio, forse avrei potuto rischiare qualcosa in queste materie. Per cui sono andata a prendere le lezioni private da una giovane professoressa, alla quale mi ha aperto un mondo, mi ha fatto capire che, appunto, la fisica non è quell'insieme di leggi della fisica, ma è intanto un processo in divenire e poi è qualcosa di molto affascinante. Poi, se scavo anche nella mia psicologia, sicuramente ci trovo anche l'influenza di mio padre, che era medico, che però era uno che era appassionato della ricerca, soprattutto nel suo campo, ma non solo. Cioè, lui la sera si chiudeva nel suo studio e si leggeva articoli sulle ultime scoperte della ricerca e mi ricordo che quando fu scoperto il DNA lui ne parlò in termini piastici, sia a me che a mia sorella. Quindi, in qualche modo, un po' di passione per la ricerca l'ho respirata, anche se non in fisica, l'ho respirata in famiglia. Ma, evidentemente, era qualcosa che mi piaceva e quindi poi ho intrapreso queste strade. Bene, il tempo è passato e dobbiamo avviarci alla conclusione. Allora, prima di concludere, oltre a ringraziare Lucia per la sua esposizione, che mi sembra molto chiara, anche dai commenti che stanno arrivando, vorrei ringraziare la nostra regia che ci ha permesso questo collegamento con tutta la sua attività di divulgazione, di prove, eccetera. Quindi ringrazio Deborah Bifaretti e Susanna Bertelli e ringrazio anche il supporto che il direttore dei laboratori frascati, Fabio Bossi, ci ha dato e come strumenti tecnici e anche come sostegno morale condividendo questa iniziativa. A tutti gli ascoltatori, appuntamento al 17 settembre con il professor Fabrizio Mollo e la Calabria Misteriosa. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.